Grazie a tutti Grazie a tutti Open immediatamente 500 anni Quanto che intendi? Ti sento bene? All those monks consumed by the fire Turned to wandering ghosts roaming in black wind mountain It was I Who granted them eternal repose I have even restored the charred scriptures piece by piece But oh yes I always do One day you shall return I am the black wind Still think you're rock solid I am the black wind Do you not desire immortality? Do you not desire immortality? I was ascended to damn you by one Who are you to stand against me? All those insecurities Oh You challenge me without even letting me have dinner I am the black wing You are ruining everything 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 Ma non mi si sente? Ma non mi si sente? È impossibile che non mi si sente? Mi sono così sguardo a morire e potete andare a farlo! Ego! Mi sono ascoltato oggi per la prima volta! Chi è tu che stai contro me? Non mi pensi che sei un problema? Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 me lo devo immaginare che mi sta per colpire. a tutti. a tutti. okey bro. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. 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 Ma io non lo definirei un soul select, è molto più simile a un hack and slash. Poi non è proprio hack perché comunque la componente di stamina management esiste, non è ignorabile. qui non è proprio hack and slash però è molto action caciarone. Ah ma che figlio è tipo un filmato di animazione questa. la longsword non ho visto ancora la longsword. e in realtà è molto più... come me lo aspettavo hanno un po' meno cura di quello che pensassi su il combat. però tutto il resto... diciamo che tipo... quella roba tipo quella roba tipo di pelli box di due milioni di chilometri... cioè è proprio cheap. cioè è proprio una sciocchezza che non capisco da Arex. Ah Arex c'ha avuto dei... una coverage privata sua. all'inter i miei un原. e poi hmonthly che sono sempre sempre assicurati a lui. Poi qu'è anche nella esperanza dell'arca. some grimacare. Ehi ragazzi, Them. Ma anche Peppo, credo che ci registrerà video poi sulla Longsword. E anche perché sto video che sto vedendo da Arex lascia un po' a desiderare. Però va bene. Ah, è più veloce lo Spirit Trust. Grazie a tutti. 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 SILK. Posso comprare. Posso comprare adesso. Quindi, poi posso fare così. Posso fare così. Posso fare così. Poi l'ho, un po' ci modo di usare per questo. Vabbè, a parte le anime, Ah sono comprabili, esattamente i due sono comprabili, poi faccio un po' di anime poi faccio il bastone. Sono andato dalla parte sbagliata, che cazzo è sta merda, mi sono distratto poi un attimo, bella Simo, ci sono gli insetti guida, una sorta, sì, non c'è barriere esplosite, era affanno. Come è che ci si arriva lassopra? Allora ho legato i carmi, l'ho trovato di subito. Guarda la porta, e guarda tutti i casa, non c'è un'imperiente, non c'è un'imperiente. Grazie a tutti Che cazzo era? Dojo a caso perché steedbox mi prendono da fanculo Meno male che mi sono curato Meno male che mi sono curato No 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 Sto senza puzioni Do cazzuato Sì 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 Non voglio fare questo boss adesso Non ho funzioni Sì 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 le ha iniziato Che è il track? Che è sto track? Ovviamente ci sono una serie di pilastri che spawnano senza alcun anticipo Perché non dovrebbero esserci? 20 Bravi Ok Ci andremo dopo lì Ma io non avevo capito che c'era un boss C'è un boss ovunque che è una cosa che per me piace Però Allora spawno pure Però ci sono sti cosi ranged che non Cioè fino a quando non trovo il modo di eliminarli Che fastidio No infatti non è responato Quello grosso Quello sembra importante Chi cazzo è? Ma quello respona Che cazzo è un B Mi conviene skippare, questo qua è forte, questo è un altro elite, no no, le faccio prima fuori questi cosi, questo pezzo è veramente annoying, comunque questa bisogna riguardarla, ho tipo subito un danno a caso e poi è arrivata l'animazione del colpo le respawno ovviamente, no, pazienza la definizione di annoying qua no non vi attacco fino a quando non ho fatto fuori tutti i tipi ranged perché sennò è annoying no 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 è rimasto qua no 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 ok via 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 Il nostro re ha perduto il suo posto. Escaviamo. I due due sono i migliori combattenti. I due due sono i migliori combattenti. E ora sono i pennelli di loro loro. Siamo starviti qui. E fuori! No, dai, Flavio! Perché sei ancora qui? Non mi metti in danger. Sì! Quello che parla di movimento. Devo vedere. Ma che hai me segnato, con il mio primo, non possiamo mai dirvi... Iniziamo a trovare il pregio. Iniziamo a trovare il pregio. Oh! Il primo primo! Sì adesso ci sta! Il primo ha honorato il dei che si chiamati a che si troviamo. Ci sono i dati da. Il primo ha honorato il dei che si chiamati a che si troviamo. Ci sono i dati da. Grazie a tutti. Mamma mia, lo sliding! Per percorra? No. È un walkable quella parte. C'ho un altro boss. Boss. Let's go! Sì! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Devi schivare quando pensi che sta per succedere qualcosa. Welfi, grazie mille per il sub. Il terzo e il quarto upgrade sulla sinistra della paralisi. Ah ok, adesso che immagino che è nello skill 3 intendi. Vediamolo. Prendi questo. Io non lo vedo nemmeno il terzo, scusami. Guarda questo è il cloud set. Quali intendi? Flavio? Ok. 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 Il secondo a sinistra, questo. Quando il nemico è immobilizzato, quando il nemico è immobilizzato, quando attacca. Quando il nemico è immobilizzato, quando attacca il nemico è immobilizzato, quando attacca il nemico è immobilizzato. Praticamente devi immobilizzare l'ultimo e c'è dei bonus. Il nemico è come se avessi fatto una sorta di parry. Ok. 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 Mi sta bene qui. Ti odori pure i potenzi che cambia l'arma appena... Appena riesco, appena c'ho due spicci in più. No, mi sono risponditi tutti i tipi ranged. Che rotture di palle! Ok, devo leggere una cosa, scusate. Ok, si deve avere il doppio triangolo. Per fare... Bastone, allungati! Allungati! Ok. Un'altra rana boss? Ok. 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 non è buona come cosa non è buona è tutto pazzo questo tipo la gente lo sollezza la terra sollezza 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 queste virgine te le sollezza tu potrziasti potrziasti più a te stesso in truffini mi chiede di cerce Ok Bella Rery Se torniamo alle shrine Ci sono due boss che ho un hold E anche un upgrade di arma È inutile che Rimango qua A cazzeggiare A parte si potrei fare un try a caso Se muoio Intanto torno dall'altra parte Tanto chi se ne frega Ah non avevo il focus point Ecco perché Ecco Grazie a tutti Ha tipo starnutito Vabbè ho fatto senza pozione Senza niente Inoltre non ci sono penalità sulla morte Cioè tanto vale veramente fare un try Fai prima a fare così Che a tornare allo shrine a piedi Vediamo un po' che mi ha dato comunque Allora credo che posso fare il bastone Questa è la prima cosa Quindi posso Penso posso No ancora no manca un pochino Questo è già un bel jump Da 30 a 50 Con critica strike Make medicine Questa è nuova Adesso posso craftare le medicine Questa è quella del damage reduction D'anni Io ho l'impressione che sto gioco È anche abbastanza item oriented Nel senso che Che gli oggetti Che puoi farti Non sono inutili Cioè vogliono effettivamente Che tu li vada a usare in combat C'è tanto gathering e tanto crafting Infatti probabilmente è un mio errore Non usarli Ma non so se voglio fare prima loro O prima l'altro boss Beh però sei un pezzo di merda Che era dall'altra parte però Quindi devo fare la scarpini La scampagnata di qua Cioè se corro così Non mi dovrebbe prendere Infatti Grazie a tutti bug? si mi sa che l'ho rotto no che si è ripreso è questa la prima che si agita no ma che cazzo fai dio caro non buono mi ha tolto tutto il mano oltretutto è il fodder del merda ma c'è ma tu non puoi permettere ai mob di andare nelle boss arena, dio caro, va bene ci sta quindi se non li uccido diventano supporter del boss qui c'è qui c'è? qui c'è qui c'è? qui c'è qui c'è? qui c'è qui c'è? qui c'è qui c'è qui c'è qui c'è? qui c'è qui c'è qui c'è? qui c'è qui c'è? Grazie a tutti. Fuori mappa, la navmesh. Fuori mappa, la navmesh. Fuori mappa, la navmesh. Ma io non ci credo. Ma io non ci voglio credere, puttana Eva. Ma il mio mana non si resetta però. No. 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 Preferisco Front Software che li fa morire. Cioè piuttosto... Piuttosto... Piuttosto li fa cadere fuori mappa Front Software e boss, no? Però non ti li resetta mai. Proprio terribile quando ti li resetta. Qui unikum. ... ... ... ... Grazie a tutti L'ho ucciso due volte l'ho ucciso Non uno Due volte l'ho ucciso praticamente Grazie. Perchè! Non ho bisogno di più! Ha, un grande vizio, signore! Da la città di qui... ... e la città... ... e la città di questo posto! Non ti preoccupi! Questo posto è un pozzo di rati e cati. Tutti che devono essere freddi... ... e faccio un pozzo... ... e faccio un pozzo... ok allora adesso andiamo a riposare al bonfire e torniamo di là alle shrine si va bello sapete ragazzi shrine, i bonfire i grace sempre la stessa cosa shortcut oh prima tu implodi ma perché non stai implodendo giubbio se stai venendo un bambino quell'aura blu a quanto pare lo rendono 660 volte più forte ok ci sta cioè no non ci sta però insomma ora sicuro le anime ce l'ho eccolo qua bam equipiamolo subito fair grazie per il sub oh c'è una bellissimo questo attacco bellissimo mister point benvenuto al canale grazie mille per il sub ok adesso torniamo di là e capiamo che cazzo ci sta lì dietro ah no ma è qui l'ho semplicemente fatti scendere da su ma hanno ancora quell'aura secondo me c'è qualcosa che cioè non penso che gli abbiano dato quell'aura blu a caso immagino si sia una ragione però penso che per farlo devo lasciarlo per ultimo perché questa va no E infatti c'aveva il mon materiale speciale Ah ok Vedi lo sapevo che c'era Ah vedi Rattarcher Non era a caso L'avevano elittizzato apposta Beh allora adesso vado a fare l'altro boss Gigawatt Benvenuto Quindi posiamo Pronti A parte che Potrei già rispeccare Tanto c'è il respec infinito Perché tanto la trust stance è quella che preferisco Quindi potrei mettere tutti i punti che Per esempio ho un miliardo di punti spesi a caso in questo momento Guarda ho già imparato la lezione che non voglio che mi vai a fare il supporter Dei bro lì dentro Va bene così Adesso vado Perciò 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Bella noise Kill bro Il lords of frenzied flame Buona per l'headless Non è che uno può fare il lord of ended flame Dove vipare però Non so Just all'ho Aspetta no il resto me lo faccio Bel rest Facciamo così Facciamo un respicchino al volo Ok Ricominciamo Grazie a tutti Impressioni sul gioco Finora Positive Bella fair Comunque Allora Immobilize Modeling Increase damage Del tuo mobile Tenite Immobilize Questo sicuramente sì Questo sicuramente sì Quello che avevo preso qua Questo l'avevo preso ovviamente Questo ovviamente Questo ovviamente Questo ovviamente contribuisce E'erloci Grazie a tutti potrzebna It's not a level of slightly increase damage. Urururururu Questo che fa? Mi sono dietro a questo Giovere Dove arrivi? Beh, sì, Mr. Point Però ovviamente non è che... Ah, grazie per il follow, Lon Cioè, è facile Non posso parlarne per via ovviamente Di regolamentazioni varie, eccetera Però È molto facile Risalire alle fonti Ecco, diciamo così Ed è quello che vi aspettate Nel senso Una volta che avete guardato le fonti fate... Vabbè, ok Facciamo così C'era la quest sopra prima Ah, non ci stanno più Devo provare Andiamo a questo triangolo Come si faceva quella mossa lì? Allora, come il cavolo si faceva? L'avevo visto prima After performing a Tattical Retreat Tattical Retreat è questa, no? Hold Light Attack Eccolo che ho fatto Eccolo che ho fatto Quindi ho fatto uno Tattical Retreat Eccolo che ho fatto una mossa lì? Eh, ma... Non la fa Sto sbagliando qualcosa Sicuramente Eccolo Mi sto facendo massacrare Ma sto testando le combo Quindi... Quindi è uno Due Tre E oro 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 Ok Understood tutto più 100 social point per te per te Comunque questi nemici ci mettono troppi nemici ranged Cioè voi avete veramente zero opzioni melee Cioè zero opzioni ranged E ci sono veramente troppi nemici ranged Secondo me eh L'hanno Mr. Point l'hanno fatto una partnership diretta con Epic Games Che comunque è la ragione per cui questo gioco è di questa qualità video eccetera Sono co-sviluppatori di Unreal Engine 5 praticamente It's major boss time No Son Your brother's gone Help me and atone for your past No No Cone Head Go and hunt the monkey Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Lo riportiamo a 75 Già è Già è un pelo meglio Ho perso tipo 10 fps Però sono comunque sopra 60 Sono sopra 60 anche se ovviamente ho lockato il gioco a 60 Ma questo è Dio caro Dio caro ragazzi questi sticosi ranged Senza senso 40 fps 40 fps 20 fps 26 fps Voi vedete totalmente frizzato chiaramente Noi E' un botto di setting non funziona Ma di Dio caro Dio caro raga Dammi il blur Però che non ci siano più sti cazzo Dei problemi E' incredibile Ci siamo? Eh Avete perso la boss fight però C'è cazzo Vabbè che è un cagone in realtà L'ho proprio aperto Però insomma Più una questione di principio Ho leggermente potenziato le mie opzioni grafiche Ed è passato da 96 fps Da 100 fps a 20 E a voi a ben zero Attenzione Una sola Attenzione Attenzione Buff Maximum stamina, buono Non ha provatomi la mia scelta grafica E no, a quanto pare Crafting Tiger Temple Riposiamo immediatamente Rigniter Spark Ah, qua c'è Questo qua nella demo c'era la tigre qua Non nella demo Le Gamescom dell'anno scorso Eccola La mia scelta La mia scelta Cosa 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 La mia scelta Eccola Eccola Il mio vecchio Nel mio Quando ti arrivi Il mio Il mio Del mio Lui Cosa Eccola 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 Ok Nooo Un poco Ho gridato Vivena ¿What do you mean? No, 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 no- I already can, I only mean You ¿ORDER? **** Dio caro Eh vabbè ma ho giocato male Poi cazzo quell'immobilize Mi ha fatto la statua Nell'istante in cui ho fatto immobilize Ma che cazzo di Cosa ha fatto la tigre di Kung Fu Questo è il mio pensiero quando Toma la tigre di Kung Fu Panda Strat King Com'è ma brisa? Strat King ma dai Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Ma vaffanculo Grazie a tutti Grazie a tutti Ma vaffanculo pure Me l'ha parata? Io ho fatto zero Grazie a tutti Mi ha margittato no? No, vabbè, sì Va bene, va bene Però penso che in realtà questa volta la continuo domani Perché domani mi devo alza presto Grazie a tutti